Più o meno. Questa postazione da casa di Andrea, un video sulle autrici al femminile o sul mio rapporto con le autrici femmine o sette libri scritti da donne, scritti da femmine. Non lo so, una cosa del genere. Però questo è il futuro, torniamo nel passato. Buongiorno. Allora, finché sono in casa l'audio dovrebbe andare, non sono tornata in possesso del mio microfono, non ancora. O meglio, io ho comprato un microfono come quello con cui mi trovavo bene prima, per quanto poi mi dimenticassi spesso di usarlo, però mi ero imposta di essere un po' più professional. L'unica cosa è che comprando l'ho sbagliato l'attacco e quindi non ho ancora un microfono, ma spero di risolvere questa questione molto presto perché, non lo so, sto entrando un po' in quel mood di, cavolo, sono in questa situazione e mi piacerebbe commentarla, mi piacerebbe registrarla, mi piacerebbe fare quello che fanno i youtuber. Insomma, sono entrata in quella roba mentale, un po' da creator, diciamo così, che mi viene super naturale per quanto riguarda Instagram, ma che su YouTube non avevo per niente, cioè mi dimenticavo di voler fare delle cose o comunque ci pensavo solo dopo. Insomma, un microfono credo mi servirà perché man mano che vado avanti vorrei perfezionare questa nuova casa che è YouTube. Detto questo, ciao, se non mi hai mai visto, cosa probabile, io sono Morgana e questo qui è il mio diario di lettura, cioè una sorta di diario filtrato dalle letture che faccio man mano. Nella mia vita sono molto attiva, o meglio, molto attiva su Instagram e su TikTok, però su YouTube, insomma, vorrei combinare qualcosa. Ho i capelli bagnati, sono a Milano, finalmente non ho in programma viaggi impegnativi come quelli della Cina e mi piacerebbe, insomma, farvi vedere un po' di routine e di vita vera. Una settimana solo con autrici donne, quindi vi farò vedere un po' di libri. È una settimana molto impegnativa, come vedrete. Ma in realtà sì, sempre dal futuro. Quello che vedrete sono 6-7 giorni, ho visto? Sto raccogliendo un po' tutte le clip che ho fatto perché ho registrato molto random e quindi adesso sto dando un senso a tutto quello che ho registrato. Luna, basta. Potrei mentirvi e dirvi che è una settimana, ma non lo è. Sono 7 giorni, sì, però tutti separati, quindi sarà un po' così. Ho un po' di libri brevi, come il terzo volume di Deborah Levi, della autobiografia e del movimento di Deborah Levi, di cui vi ho già parlato, che di solito riesco a leggere in un giorno, un giorno e mezzo. Insomma, vedremo. Vorrei leggere un nuovo libro di Amelino Tomb. Ho iniziato stamattina, ma penso che ve ne parlerò più avanti. Triste tigre di Neish Sinod, che è il premio strega europeo del 2024, credo sia di quest'anno. Dunque ne parleremo meglio. Insomma, vorrei portarvi in questo giro di letture. al femminile, quindi scritte da autrici, perché ultimamente mi sto sentendo molto più vicina a autrici donne, per diversi motivi. Il primo, che è un po' strano, ma necessario da dire, non sono stata mai troppo in contatto con la mia femminilità, diciamo, perché mi sono sempre sentita super distante da qualsiasi modello femminile che mi venisse proposto. Cioè, non mi sono mai sentita, proprio mai, ma neanche rappresentata da bambina o così, dalle principesse, ma anche le teenager dei telefilm o simili. Io sono sempre stata molto distante da tutto e allo stesso tempo io non ho mai avuto un modello femminile, un qualcosa a cui ispirarmi. Sono sempre, non lo so, sentita molto distante. Vuoi che anche fisicamente io sono stata, insomma, una ragazzina obesa che tendeva molto a coprirsi più che a valorizzarsi. Io ho cominciato a vestirmi per non coprirmi, cioè per avere uno stile così, ma veramente abbastanza tardi, cioè dopo il liceo praticamente. Da lì ho acquisito una sorta di sicurezza un po' diversa che mi ha fatto un po' riscoprire o scoprire per la prima volta tante cose. Detto questo, l'entrare in contatto con delle voci al femminile un po' più reali, almeno per quanto mi riguarda, almeno per come sono io, percepisco molto più le reali e una voce subversiva come può essere quella di Deborah Levi, quindi, insomma, un po' più imponente, aggressiva, creativa, scomoda, invece di magari ritrovarmi nello stereotipo al femminile della migliore amica dei telefilm. alla Gossip Girl, che comunque guardavo. Quindi, sette giorni lettura al femminile, vorrei fare sette giorni per sette letture al femminile, potrei farcela, vedremo. Spoiler, non ce l'ho fatta. E quindi questo è un po' quanto, spero anche di recuperare il microfono, perché poi questo weekend sarò in Tantino Alto Adice per un nuovo ritiro di lettura e mi piacerebbe comunque portarmi un po' con me. Sta per iniziare la mia giornata e quindi, a presto. Poi, in realtà, mi viene ad aggiungere anche un'altra cosa che è super attuale. Io dovrei uscire di casa, ma ovviamente, prima che mi scordi, io mi è venuto anche in mente prima, mentre parlavo, che non ho chissà quali amiche femmine, cioè non ho mai avuto delle amicizze femminili forti, o meglio, ho avuto dei periodi in cui magari ero legata alla compagna di scuola, eccetera. Però raramente ho avuto quel tipo di intesa al femminile fortissima, probabilmente perché io stessa non ero consapevole, magari, insomma, io stessa non mi sentivo una donna e quindi facevo fatica a condividere il mio essere una donna, una ragazza o comunque anche una bambina, verso l'esterno. Io sono sempre stata, insomma, un po' poco racchiusa nel mio genere e non so se mi sto spiegando, però nel senso che anche visivamente ero un maschiaccio, non sono mai riuscita a scatolarmi come ragazza e allo stesso tempo ho legato con moltissime ragazze ed è una cosa che anche adesso con 30 anni vi trascino dietro e cioè le mie più grandi amicizze sono sempre state maschili tuttora e l'idea di trovare delle amiche o confronto al femminile costante nei libri è stata forse la mia soluzione inconscia ultimamente, credo. Comunque fa strano, insomma, considerare Amelino Tombo una propria amica, però credo che mentalmente io sia un po' lì. e sì, questo è un po'. Ora si esce veramente, tra l'altro, da quando faccio video, non video su YouTube, però video in generale, mi viene da considerare Milano un po' da come se fossi una turista, non so come dire, perché sono costretta un po' a riprendere le strade, le cose, anche per, insomma, fare video e raccontare un po' le mie letture, le mie giornate attraverso le mie letture e sto notando tantissime cose molto carine. Quindi oggi che sarò in giro praticamente tutto il giorno fino a sera, secondo me, insomma, fa molto bene vivere la propria città come da turista, perché poi si ha meno voglia di andare via, una cosa del genere. Sì, poi in realtà la verità, ripensandoci, è un po' chiaramente lucida che veramente arrivo da un periodo super intenso di viaggi, trasferte, anche semplici weekend fuori porta, però avevo come se avessi avuto veramente una parentesi di fame, proprio di posti, cose nuove, perché in pochissimo tempo sono stata, sono riduce da due settimane in Cina e già questa cosa è stata molto provante, però in generale comunque è stato l'anno dove ho viaggiato proprio tanto tanto e quindi non lo so, è come se avessi un attimino bisogno di fermarmi, che questo forse è anche un po' l'obiettivo dei prossimi mesi. Tra l'altro io in teoria a ottobre ho programmato un viaggio in Marocco di cui ho preso solo il volo, a un prezzo ridicolo, e sto quasi pensando di non andare perché non so se qualcuno mi può capire, però ho proprio bisogno di un periodo di Milano, Pantofole, casa, proprio anche routine, forse è questo, di routine, forse. E quindi rieccomi qui a Milano, come vi dicevo dopo un viaggio in Cina di più di due settimane e ho letto il primo di questi sette, ho deciso arbitrariamente che saranno sette, libri scritti da donne e il primo che ho letto come forse l'avevo anticipato nel scorsi BlaBla è Triste tigre di Neige Sino, candidato a primio strega europeo 2024, sì, quindi quest'anno, ed è praticamente pubblicato da Neri Pozza. L'ho letto veramente, l'ho mangiato praticamente, ed è un memoir di questa autrice, a mio parere pazzesca, con anche una cultura letteraria e anche cinematografica in realtà, perché parla anche di film e così. E cosa fa lei? Praticamente lei racconta dei suoi reiterati abusi da parte del suo patrigno e lo fa con un'uscita veramente assurda, in modo quasi freddo e tramite la sua esperienza filtra anche alcune opere famosissime che magari toccano o anche solo sfiorano questi temi, tra cui prima fra tutte è Lolita di Nabokov, che appunto racconta in modo ovviamente romanzato e letterario una cosa che lei ha vissuto per tutta l'infanzia. Non lo so, ci sono delle cose molto particolari che mi hanno colpito. La prima fra tutte è che quest'autrice si interroga, lei in primis, ma anche con i suoi lettori che inevitabilmente stanno leggendo di queste tematiche, sul perché un lettore, una lettrice, è affascinata, è interessata a leggere in modo quasi morboso di un abuso, un abuso sessuale in questo caso. Perché ci interessano così tanto i memoire, che è un genere letterario che prima quasi non si vedeva in libreria, invece negli ultimi anni è praticamente ovunque. In qualche video passato vi ho parlato anche del Corpo Ricorda, che è un altro memoire che mi ha colpito tantissimo, che è la storia di questa ragazza che è stata, ahimè, stuprata. E non è tanto il racconto dell'evento, ma di quello che succede dopo a livello emotivo e anche a livello proprio di, come si dice, fisico. Cioè come sta un corpo che ha subito una cosa del genere, ma non subito dopo, dieci anni dopo. Che cosa significa essere madre dopo che si è subita una cosa del genere. E Nesh Sino, che è l'autrice di Triste Tigre, si chiede proprio questa cosa. Perché ci interessa questa cosa qui? Perché abbiamo bisogno di leggere di cose così terribili a volte in un modo un po' inquietante, no? Nel senso, e io stessa vi chiedo, ma io perché voglio leggere queste cose? Perché mi interessano? O ancora peggio, perché io che non ho subito niente di paragonabile, mi ci ritrovo in queste sensazioni, no? Ed è ovviamente un quesito molto aperto. La cosa che più mi viene in mente anche, parlando un po', pensando un po' magari al true crime o a questo tipo di racconti, no? Che sono magnetici, che sono abbastanza di moda ultimamente. È probabilmente il fatto che noi, ragazze interrotte di quartiere, abbiamo bisogno di esorcizzare dei microtraumi che abbiamo, no? E lo facciamo attraverso la lettura e l'analisi di traumi più grossi. O almeno questo è un po'. Intanto ci sono sempre sotto le campane, ogni volta che registro come è possibile. Cabare finite, ebbene sì. Quindi è un po' questo. È un libro che a me è piaciuto veramente tanto e la cosa assurda è, sempre come vi dicevo, credo, io poi non mi scrivo le cose, quindi mi perdo dei meandri, dei miei pensieri. Il fatto di avvicinarmi a una memoria, a un memoir, che è un racconto di fatto autobiografico, però dal punto di vista emotivo, a me fa molto bene, perché in qualche modo mi fa entrare in confidenza con un'altra persona che magari è stata male. Non sto paragonando il mio male a un male del genere al solito, però è sempre il fatto del... per chi è stato solo molto tempo, solo magari a livello esistenziale, però magari anche a un livello più pratico, fa incredibilmente bene entrare in sintonia con qualcuno che ti fa una confidenza, no? Ed è forse per questo che noi ragazzi interrotte di quartiere, come ci definivo prima, fa bene e fa quasi piacere entrare all'interno di libri che hanno questo tipo di dinamiche. Quindi credo sia un po' questo. Comunque mi sono fatta una lista di libri, di questi famosi sette libri scritti da donne che voglio leggere, spazzerò sia a livello geografico che a livello di generi letterari. Ci sarà immancabilmente un libro di Amelino Tomb che non ho ancora letto, che è il libro delle sorelle, credo ho sentito di uno degli ultimi che ancora mi mancava e detto questo noi ci aggiorniamo prestissimo. Al solito ci sarà, non so perché sto partendo per il Trentino Alto Adige, un nuovo lisilo di lettura dove spero veramente di non fare nient'altro, sennò spiaggiarmi da qualche parte, anche se sono in montagna il termine spiaggiare è perfetto e leggere come se non ci fossero domani. Buongiorno, sono un po' ritorata perché sono tipo le sette di mattina al solito e ieri tra l'altro l'ho fatto molto tardi perché sono a un ritiro di lettura, sempre come vi dicevo, a Madonna di Campiglio in Trentino Alto Adige e non lo so, avevo del lavoro da fare, quindi la mia intenzione era di non fare troppo tardi con la cena, le cose così, di andare in stanza e poi finire di lavorare, poi una cosa tira l'altra e erano le undici e mezza, io ho iniziato a lavorare le undici e mezza con la sveglia alle sette e mezza, perfetto. comunque, secondo i libri, mi sono portata ovviamente dei libri sempre al femminile per continuare ad approfondire insomma un po' tutte le chiacchiere di questo video e ho finito Amelino Tom, il libro delle sorelle e Amelino Tom è questa autrice, poi magari ne parliamo anche meglio in un altro video, è un'autrice che io seguo da qualcosa come più di quindici anni perché la mia insegnante alle superiori ci aveva fatto leggere un suo libro, io anticrista ero partitissima, mi era piaciuto tantissimo e tuttora quando voglio tornare un po' a casa torno da lei perché la trovo sempre, non lo so, la trovo sempre geniale, la trovo sempre veloce, ogni suo libro praticamente lo leggo sempre in un giorno e questo, anche i suoi libri più brutti in realtà poi sono belli e così, questo mi mancava, era uno degli ultimi e neanche a farlo apposta parla della storia di queste due sorelle che crescono emotivamente anche di età ovviamente però è tutto un lavoro di costruzione delle emozioni, di una maturazione emotiva tramite il dialogo tra di loro e si crea una sorta di bolla dove sono loro contro al mondo e quindi ancora una volta donne che dialogano per crescere, molto carino, forse tra i suoi più illuminati ma comunque il fatto che l'abbia letto in un giorno al solito fa capire che... non lo so, ogni volta che vado in un ritiro di lettura, soprattutto se mi capitano delle letture del genere, quindi amicizie, legami al femminile, tematiche al femminile, eccetera, mi rendo conto di come io sono ormai 6-7 anni che non ho una rete di amicizie forte, nel senso che io ho di fatto due amici veramente fighi, uno lo vedete spesso con di Filippo Pasqui e poco altro, però entrambi questi due miei amici non sono donne e le altre relazioni che ho al femminile diciamo sono molto più sporadiche, slegate quasi e no che non siano importanti ovviamente però non paragonabili a quel tipo di legame forte, intenso, simbiotico che come magari nel libro di Amelino Tomb ti fa crescere, ti fa cambiare, ti fa anche identificare l'altra persona, io da questo punto di vista come donna mi sento proprio super slegata e il fatto di cominciare a despormi sui social qualche tempo fa era un po' legato anche a questo perché io sono un fiume in piena se mi conoscete dal vivo, sono una disagiata, una timidora, quello che volete ma sono anche una che ha bisogno di raccontarsi tanto, di dire tanto, di chiacchierare e io mi ritrovavo praticamente a leggere libri su libri su libri ma non avere nessuno dall'altra parte con cui anche avere un minimo di confronto, cioè io leggevo un libro, lo prendevo e lo mettevo di là e il fatto di essere invece in un contesto fullo su online dove si parla di libri quindi booktube, booktok eccetera dove invece c'è uno scambio costante di pareri ma tu hai detto questo ci sono le challenge oppure anche ci sono magari gruppi di lettura quindi proprio dei gruppi con 300 persone che leggono tutti lo stesso libro dove il confronto diventa inevitabile no e questa cosa qui mi ha veramente fatto rinascere io non per quanto il community ovviamente è piccolissima perché non ci dedico chissà quanto tempo non ci dedico chissà quanta preparazione il tempo che ho a disposizione è molto piccolo però quindi nonostante io non abbia raggiunto chissà quante persone nel tempo mi sento comunque super accolta e anche il fatto di partecipare a dei ritiri di lettura è un po' questo cioè il corrispettivo di quello che succede sui social quindi di questo scambio verboso di opinioni e idee e interpretazioni dei libri che si trasmette, si trasla anche dal vivo quindi non è una cosa che rimane nel lettere e mi ha arricchito proprio come persona cioè per quanto possa sembrare un po' cheap da dire però è vero e il fatto di non avere amici di non avere in particolare amiche e il fatto che io stia privilegiando letture di autrici quindi con una visione da donna fa parte un po' di questo quadro è come se io cercassi appunto delle amicizie nelle autrici che leggo in particolare se scrivono cose autobiografiche come spesso fa tra l'altro anche Amelino Tom detto questo vediamo un po' cosa ci riserverà questa giornata vado a fare colazione che è la cosa più importante e più bella della giornata faccio una parentesi tra l'altro poi è assurdo come quante clip io registri con i capelli bagnati ancora da vabbè ok ed è assurdo come sia discordante il mio canale youtube rispetto alla cura estetica proprio che metto magari nei contenuti che sugli altri social detto questo già l'altra volta un bel po' di persone mi avevano scritto per sapere riguardo i ritiri di lettura cosa sono è molto facile un weekend o qualche giorno in più in un posto con altre persone dove il fine è leggere quindi semplicemente si ritaglia del tempo per leggere si legge magari in una stessa stanza insieme eccetera eccetera ma non sono cose che organizzo io quindi non ha senso che mi chiediate informazioni lo ribadisco perché non so non vorrei che sembrasse così perché assolutamente non lo è anzi io sono super riconoscente alle ragazze che organizzano queste cose proprio perché eh sì vabbè è come come vi parlavo prima eh se volete info su questi ritiri di lettura che vedete in particolare nei miei video dovete andare sotto che c'è trovate tutto in particolare eh vi consiglio di scrivervi alla loro newsletter così ogni volta che c'è un nuovo ritiro di lettura lo ricevete subito e potete eventualmente acquistarlo fine della parentesi allora devo andare a fare una camminata questo è l'outfit più sportivo che sono riuscita a combinare comunque spero anche di trovare un bello spot per leggere prima volta che metto la giacca in montagna non in città ovviamente e passeggiata madonna di Campiglio Trentino cose montagne non in città non in città siいました Buonasera, aggiornamenti, giornata complicata. Buonasera, devo dire che è la prima volta che mi trovo in un ritiro di lettura, questo ormai è il quinto che faccio, e no per colpa del ritiro di lettura ovviamente, ma come se non fossi molto nel mood della lettura, dell'isolamento così. Non so, perché è la prima volta dove, cioè sì, leggo, perché ovviamente siamo qua per questo, ma allo stesso tempo mi ritrovo a lavorare, a fare altro. Cioè come se, sì, sono in vacanza, ma allo stesso tempo sto vivendo un po' la mia giornata come se fosse una giornata qualsiasi, che è un peccato perché appunto di ritiro di lettura, non è che ce ne sono tutti i giorni, ma questo è un po' quanto. L'idea di oggi era quella di iniziare a finire Eden, di, provo a dirlo, autor Ava Olaf Stotter. Vabbè, linguista e scrittrice e traduttrice islandese, che appunto ha scritto questo romanzo saggio, che io ho letto a metà in realtà, che appunto volevo leggere tutto, ma in un altro ritiro di lettura l'avrei letto tutto. Ovviamente è un'autrice donna perché ho voluto inserirla in questo libro e in questo periodo della mia vita dove un po' mi sto facendo delle amiche letterarie e me ne parlerò magari più approfonditamente. Quello che fa Ava, chiamiamola amichevolmente Ava, è quello di partire dalla lingua islandese, da delle parole particolari che magari si stanno perdendo, da, insomma, l'analisi della lingua islandese vista dal punto di vista di una linguista che sta vedendo anche la fine di questa lingua, no? Perché man mano che si va avanti, l'islandese e tutte le sue sfumature che sono molteplici, c'è una pagina dove c'è tutto l'elenco, no? Non sono dei modi di dire vento in islandese che sono tantissimi, ma tutte queste sfumature si stanno un po' perdendo. Lei riesce addirittura a capire l'età di una persona in base al tipo di parole islandesi che utilizza, perché appunto una persona ovviamente anziana usa delle parole che invece la generazione successiva e quella dopo ancora l'ho perso magari anche completamente, quindi veramente lo trovo super interessante, piacerebbe tantissimo magari a chi è un po' appassionato del podcast di Vera Gheno, eccetera, quindi vedere questa cosa anche dal punto di vista di una lingua come l'islandese che è destinata ovviamente a perdersi, quindi il tutto poi si mischia con una sua vicenda, credo autobiografica, di lei che si sente anche molto in colpa del fatto che per studiare questa lingua morta e anche per divulgare questo percorso di questa lingua che è l'islandese, lei si ritrova a fare tantissimi viaggi in aereo inquinando tantissimo, allora lei vuole a fare un calcolo di quanti alberi dovrebbe piantare, che sono un'infinità, per ripagare il pianeta dei suoi viaggi in aereo e decide effettivamente di comprarsi un terreno e di piantare questi alberi in un terreno ostile come è quello islandese, spesso volentieri, quindi questo è un po' quello che sta succedendo qui. Al di là di questo, come vi dicevo, nonostante io sia nel ritiro di lettura per leggere, non ce l'ho fatta molto oggi, ma a parte questo, un'altra cosa su cui stavo riflettendo oggi è che io ho scoperto, come vi dicevo, Melino Tomb a dicevo, e ormai da quella scoperta sono passati più di 15 anni perché ho 30 anni, ed è assurdo perché comunque Melino Tomb è una scrittrice che parla di disturbi alimentari, parla ovviamente di adolescenti, parla di crescita e parla anche di persone obese, moltissimi dei personaggi di Melino Tomb sono obesi, sono degli obesi e spesso negativi, non sempre, però c'è questa figura dell'obeso come personaggio che si isola dal mondo e sapete io quanto sono sensibile a questa tematica. E ci stavo riflettendo oggi, perché abbiamo parlato a pranzo anche di questi temi, non ho mai visto personaggi obesi rappresentati nella letteratura, cioè non mi è mai capitato, esclusa Melino Tomb, di incontrare questo tipo di personaggi. Ultimamente, come se ci fosse stata un'attenzione maggiore, anche grazie al film The Whale, che se non l'avete visto guardatelo, però è un gran peccato perché ovviamente la voce di Melino Tomb è una, non è spesso, anzi, spesso questi personaggi sono respingenti proprio perché con il loro grasso tendono appunto a racchiudersi dentro questa prigione corporea che tiene tutti distanti, che di fatto è quello che fa a livello psicologico l'obesità, no? Avrei voluto tantissimo avere altre compagnie, altre rappresentazioni, altre visioni di altri corpi, banalmente non sono di corpi obesi, però allo stesso tempo a Melino Tomb, che era questa voce unica, mi è stata vicina, no? In un periodo dove io ero vesa non di primo grado, non di secondo grado, non di terzo, cioè ero proprio fuori scala. E sì, quindi a Melino Tomb tanta roba. Vorrei dedicare una serie di, o almeno un video intero a questa autrice perché le devo tantissimo e credo anche di conoscerla abbastanza bene. Tutto questo, però è luna di notte, quindi buonanotte. Loro, questi due, questi due personaggi strani, stravaganti, che si innamorano l'uno della lingua dell'altro, sono il motivo per cui io sono qua. Cioè, sono stati i generatori di me. Buonasera da questa luce terribile e da una Morgana con delle occhiaie importanti, comunque. Tornata dal trentino e ho finito Eden di Other Abba, Oliver Stotter. Io ogni volta prego perché si è pronunciato bene. Detto questo, mi è piaciuto. Mi è piaciuto molto. Non lo so, è strano perché in realtà comunque non si capisce se è una storia autobiografica o meno. Comunque la protagonista non si schiama come l'autrice, però ha dei punti in comune con lei perché lavora nell'editoria, è una linguista. Insomma, ci sono tutta una serie di cose che la fanno molto avvicinare l'autrice. E questo personaggio, a me è piaciuto molto il personaggio della protagonista che è Alba, perché mi assomiglia inevitabilmente tantissimo. Ma voi direte, Morgana, tu assomigli a ogni personaggio di cui leggi un libro? Sì, perché inevitabilmente ogni cosa che leggo cerco me stessa, perché cerco la cattarsi, cerco di guarirmi con i libri, cosa che è una battaglia contro i monini a vento. Ma a proposito di battaglie contro i monini a vento, Alba è proprio la regina di queste battaglie. E questo è un po' il senso del libro, cioè l'impegnarsi tantissimo a fare qualcosa che sai che fa alimentare. Cioè, almeno io l'ho letta in questi termini. Perché abbiamo questo personaggio che passa la sua vita a correggere le bozze di romanzi che sa che non sono buoni. Però è il suo lavoro. Passa la sua vita ad appassionarsi e a studiare una lingua, l'islandese, che sa essere una lingua in via d'estinzione. Allo stesso modo, per espiare questa sua colpa ecologica, si mette a piantare alberi nel territorio più ostile del mondo, che è appunto l'Islanda. E quindi lei ha un continuo scegliere le proprie battaglie a modo sbagliato. Lei sceglie la lingua sbagliata, l'amore sbagliato, ovviamente, perché alla fine poi torniamo sempre lì. E allo stesso modo, invece, magari ha un padre che le vuole molto bene, a cui lei potrebbe essere molto fine, e a cui lei vuole moltissimo bene, inevitabilmente, ma che non riesce in qualche modo a legarsi. Però si lega con altre personalità, che invece non la ricambiano allo stesso modo. Ci sono tutte queste serie di trick, ed è inevitabile che, insomma, mi sia piaciuto. L'ho anche notato molto, non so se si vede, perché nel ritiro di lettura ci hanno dato i post-it, che non sempre dietro e non sempre mi piace utilizzare, però ce li avevo, quindi ho detto sì. Comunque, è questo. Io ribadisco il fatto che l'avere una visione femminile, l'avere un'amica, una scrittrice, un libro è come se fosse veramente un messaggio. Per me leggere un libro scritto da un'autrice che non sta semplicemente raccontando una storia di intrattenimento, oppure magari anche sì, non è questo il caso. Ma in qualche modo sta anche dando un proprio contributo emotivo a un'altra donna, a un'altra elettrice, che in questo caso sono io. Per me è veramente l'equivalente di avere un'amicizia. Forse sto sottovalutando le amicizie, forse non so cosa voglio dire avere un'amicizia, se questo per me è, insomma, averla. Però ribadisco questo senso di compagnia e completezza quando mi ritrovo veramente ad avere a che fare con donne del genere, quindi questo è un po' quanto. Continuerò il mio percorso al femminile. Ho iniziato un nuovo libro, ve lo mostro arrivi avanti perché non ce l'ho sotto mano perché lo sto leggendo in digitale, che è Lezioni di chimica, che invece è un romanzo molto più leggero. Finora ho letto veramente le prime pagine, sono più o meno la pagina 30-40, e sembra essere una storia d'amore, ambientata nei miei 50, con il sottofondo della chimica, perché sono due scienziati, no? E con tutte le conseguenze del caso di cosa vuol dire essere una donna di scienza in quel periodo. Quindi questo è un po' quanto. Qui sempre Milano, qui sempre un caos assurdo, è arrivato uno di quei periodi dove riesco a leggere non quanto vorrei, riesco a dedicarmi alle mie cose, non quanto vorrei, però spero veramente di sbloccare. L'obiettivo della mia vita di fatti è non lavorare, però purtroppo così. Alla prossima. Tra l'altro, sempre Morgana la struccata dal futuro, è assurdo perché ultimamente Andrea sta leggendo tantissimi, tantissimi, ha letto un paio di libri di Veragheno, che non sono assolutamente la persona più indicata per presentare Veragheno, però è una linguista, una personalità, una divulgatrice che fa podcast e tantissimo. E siamo andati a vedere un suo spettacolo, che è il corrispettivo libro del suo spettacolo, che è Grammamanti, una delle sue più recenti uscite per Enaudi. e Andrea l'aveva letto quest'estate, quindi siamo andati, vabbè, a vedere lo suo spettacolo qualche giorno fa. Ed è assurdo come... Io che non bazzico molto questo genere di tematiche, mi si è ritrovata per casissimo due titoli, quindi Grammamanti, nel caso di Veragheno, e Eden, il libro di questa... Non fatemi ripetere il suo nome, veramente, perché non posso farcela. Dunque, Odor, Ava, Olaf o Stok, me lo sono ricordato, è incredibile. Comunque, mi si è ritrovata, quindi, a intrufolarmi nel campo della linguistica, da una parte, la linguistica italiana, da una parte, invece, quella islandese. Dalla parte, abbiamo l'italiano, che è una lingua estremamente viva, che tende ad arricchirsi, a contaminarsi, a modificarsi man mano nel tempo, dall'altra parte, una lingua, come l'islandese, che invece è molto chiusa, e che non si sta contaminando, ma che anzi si sta perdendo, no? E non lo so, io trovo veramente incredibile come queste, insomma, questi due momenti, quindi Grammamanti e Eden, si siano coordinati nella mia vita, per invece intrecciarsi, in questo periodo. io sicuramente dell'autrice islandese, leggerò molto altro, vera che no? Invece mi sto un po' arrabbattando con i podcast, altre cose, e devo dire che più che leggerla, lei, anche avendola vista dal vivo, no? mi ispira molto quasi come insegnante, cioè vorrei approfondirla, però con la sua voce, la sua cadenza, così, anche perché ha un modo super narrativo di scrivere i saggi, no? E quindi, boh, chiacchiere libertà. Detto questo, a parte che, ho famissimo, mi immagierei anche un tavolo in questo momento, e, ho deciso, ho deciso adesso, non ha senso farvi un'ora e mezza di video dove vi presento sette libri scritti da donne, ma vorrei che questo fosse un momento nostro, dove ogni tot, io, comunque, ho già gli altri quattro libri di cui parlarvi, quindi i famosi sette libri scritti da donne, con cui questo video era iniziato, no? Anzi, questo video era iniziato con una settimana con libri, però vabbè, e diventasse, insomma, questa cosa qui, quindi di libri, scritti da scrittrici, diventasse una sorta di appuntamento ricorrente, con le mie chiacchiere e la mia vita, e questo è, insomma, un po' il primo episodio. Vi posterò prestissimo la parte 2, nel frattempo, qui sotto, trovate tutti i miei riferimenti social, e vi ricordo che sono un po' più attiva, o meglio, sono un po' più, un po' più meglio, su Instagram e TikTok, trovate i contatti di Viaggiare Equilibri, che sono Giulia e Gaia, che organizzano dei reti di lettura, trovate i titoli dei libri di cui vi ho parlato, e un box domande, se volete farmi delle domande in anonimo, e ogni tot faccio un video in cui rispondo un po' a tutto, potete fare anche domande un po' più personali, cercherò di rispondere, ovviamente, nel possibile, e questo è quanto, grazie mille se mi avete sopportato fin qua, alla prossima, alla prossima lettura!